Nell'ambito della due giorni alta ottesina della delegazione della Stiria guidata dal governatore Franz Vowes e dalla presidente del consiglio provinciale Manfred Wegscheider, si è svolto a Palazzo Wittmann a Bolzano un incontro con il presidente Luis Durwalder che al termine dei colloqui ha sottolineato gli ottimi rapporti con la vicina regione austriaca che ha per capoluogo Graz. Abbiamo anche qualche problema in comune, ha precisato Durwalder, come l'agricoltura e la zootecnia, ma in molti campi possiamo scambiarci le reciproche esperienze. Loro, ad esempio, nella ricerca sono più avanti di noi. Credo che proprio qui potremmo anche collaborare, se io penso alla Linepur, però anche al TIS e via di seguito. Abbiamo anche problemi comuni per quanto riguarda il traffico, specialmente anche per quanto riguarda le strutture per le bicicliette, eccetera. Credo che abbiamo moltissime cose in comune dove possiamo collaborare. Proprio con questo siamo molto contenti perché credo che le regioni all'interno di quest'Europa devono collaborare. Adesso parliamo continuamente di macro regioni, parliamo anche di iniziative nel settore del turismo. Oggi non è più così che uno deve pensare solo alla propria terra, alla propria regione. Se noi vogliamo fare attività promozionali nel settore del turismo dobbiamo comprendere un territorio molto più vasto e perciò oggi vogliamo parlare col Presidente Voves proprio anche di questi problemi. Perciò siamo rimasti contenti di questa visita. Mercoledì Durvalder e il collega trentino Lorenzo Dell'Ai saranno a Roma dove incontreranno tutti i parlamentari del Trentino Alto Adige per discutere quali emendamenti sia ragionevole proporre alla manovra finanziaria anticrisi con la richiesta di una clausola di salvaguardia dello Statuto d'Autonomia, delle norme di attuazione e dell'Accordo di Milano.